Telegrafico, Grillo è la persona che ha portato 150 parlamentari No ma adesso? Certo, però le rinnovo, Grillo è la persona che dalle piazze ha portato 150 parlamentari all'interno delle istituzioni Ha una grande eco-mediatica, secondo me è un grandissimo professionista Però non ha fatto andare voi Io mi aspetto Beppe Grillo nelle piazze perché effettivamente è un qualcosa che funziona e funziona molto ed in maniera giusta per il paese Ma voi vi dovete dare un'organizzazione in cui c'è qualcuno che rappresenta il Movimento 5 Stelle anche se non c'è Grillo Un'organizzazione politica come sta facendo Podemos in Spagna O trovare un portavoce Tutte le società fatte di persone, dalla famiglia ad un'azienda ad una struttura politica Secondo il mio modestissimo modo di vedere le cose hanno necessità di avere quantomeno un organigramma e una struttura